Sono passati 50 anni dalla strage di Piazza Fontana. L'Italia ricorda le vittime senza giustizia e dei pistaggi infiniti di quel 12 dicembre 1969, quando una bomba esplose nel Salone Centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano. 17 persone fatte a pezzi, quasi 90 feriti. E l'attentato inaugurale della strategia della tensione, che produce in totale 12.690 altri attentati, tutti a sfondo politico, che dal 69 al 1980 causarono 362 morti e quasi 4500 feriti. Qualche minuto prima dell'esplosione a Piazza Fontana, un ordigno venne rinvenuto nella sede della banca commerciale di Piazza della Scala a Milano e tre esplosioni ci furono a Roma, di cui una all'altare della patria. L'Italia era sotto attacco. Nessun'altra democrazia occidentale ha conosciuto nel Novecento fenomeni di tale gravità o una sequenza di episodi in cui l'assassinio divenne strumento sistematico di azione politica. Inoltre, la violenza condannata a parole nei fatti venne tollerata e in alcuni casi incoraggiata proprio da coloro che avrebbero dovuto assicurare i colpevoli e la giustizia. L'ultima beffa risale al 2005, quando la Cassazione attribuì la strage al gruppo eversivo neofascista a ordine nuovo, ma dichiarò non punibili, responsabili, frede e ventura, che erano già stati assolti. A riprova che la strage di Piazza Fontana era il preludio di un golpe di estrema destra, restano le parole dell'allora segretario politico della democrazia cristiana. È stato operato il tentativo forse più pericoloso che la destra reazionaria abbia tentato e portato avanti dalla liberazione ad oggi. Questo tentativo disgregante è stato portato avanti con una trama che aveva radici organizzative, finanziarie e consistenti e che ha trovato la solidarietà probabilmente non soltanto nell'ordine interno, ma anche in quello internazionale.